Ilaria e Alec Baldwin genitori per la settima volta, è nata la piccola Ilaria Catalina L'attore Alec Baldwin e la moglie Ilaria sono diventati genitori per la settima volta La bella notizia con un post su Instagram, lei è qui. Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà. Ilaria Catalina e Rena Alec Baldwin e la moglie Ilaria sono diventati genitori per la settima volta Con un breve video pubblicato su Instagram, la coppia ha dato la bella notizia, lei è qui. Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà La notizia della nascita Ilaria Baldwin ha voluto dare la bella notizia sui social condividendo alcune foto della piccola, l'ultima arrivata nella loro numerosa famiglia Si tratta di una femminuccia, nata lo scorso 22 settembre, che hanno deciso di chiamare con un nome italiano, anzi con tre, lei è qui. Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà Ilaria Catalina e Rena. Ad accompagnare le dolci parole anche alcune foto della neonata insieme alla mamma subito dopo il parto e dei momenti in cui è stata portata per la prima volta a casa a conoscere gli altri fratelli e sorelle Entrambe, io e lei, siamo felici e in salute ha poi aggiunto la neo mamma i nostri balvinito stanno trascorrendo il tempo legando con lei e dandole il benvenuto nella nostra nuova casa La La settima gravidanza La settima gravidanza è arrivata dopo un periodo di alti e bassi per la coppia, soprattutto in seguito alla tragedia in cui Baldwin è rimasto coinvolto sul set del film Western Rust L'attore americano ha sparato alla direttrice della fotografia Alina Hutchins uccidendola Perché mi avete dato una pistola calda? Sto collaborando pienamente con lo sceriffo per chiarire come sia potuto succedere, sono state le sue prime parole dopo il drammatico incidente La moglie Ilaria gli è sempre stata accanto e insieme hanno attraversato anche quel difficile momento, provando a lasciarselo alle spalle, per il bene della loro famiglia Una famiglia che, quasi a sorpresa, ha accolto un nuovo membro Dopo molti alti e bassi negli ultimi anni, abbiamo un'eccitante e una grande sorpresa, un altro baldovinito sta arrivando questo autunno Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse completa, e siamo più che soddisfatti di questa sorpresa